e questa quindi è la prima sveglia oggi parlerei parlerò anzi non parlerò leggerò molto brevemente un testo da un libro uscito in una collana è uscito anche una cosa mia alcuni dicono che non è opportuno effettivamente a recensire ma non è quello che sto facendo comunque testi usciti in collane alle quali si appartiene a questa osservazione dedicherò questo prossimo secondo di silenzio il libro che leggo di cui leggo un frammento è quello di carlo bordini poesie color mogano uscito per tic da da poco poche settimane e leggo questo testo nessuna talpa corrode il vento coi suoi denti sognare è mordere il vento abitare così è mordere il vento togliere quadra vive uccidersi è mordere il vento nessuna talpa quest'anno no punto qualcuno sta mordendo il vento nessuno muore morde il vento così vedete così può vedere ragioni legate alla peculiarità della scrittura di carlo bordini alcune parti del testo sono state da carlo indicate come da correggere e queste correzioni sono rimaste nel testo a prescindere da questo l'impressione che si ha leggendo un testo come questo così come leggendo molte altre cose di carlo bordini è quella di s di trovarsi di fronte a delle pagine in costruzione dei cantieri dei materiali che non semplicemente come pure è chiedono al lettore una un'attenzione particolare una collaborazione nella produzione del testo e del senso del testo ma anche una sorta di richiesta da parte del lettore di accettare lo stato di cantiere richiesta da parte del lettore di accettare lo stato di ricerca di ricerca costante non diversamente penso si possa interpretare il lavoro che negli anni carlo bordini ha fatto passando da libro a libro magari reincludendo le stesse poesie con piccole varianti oppure all'interno dello stesso libro che ne raccoglie la maggior parte ovviamente parlo dei costruttori di vulcani uscito per luca sossella anni fa e già alla sua seconda ristampa e in quel libro si trovano appunto versioni diverse frammenti diversi della stessa della stessa ispirazione sostanziale un altro elemento della del lavoro di carlo bordini è sicuramente la possibilità di la possibilità lasciata data al lettore di rimanere sul sul discrimine sul margine sul bilico tra l'interpretazione di un testo di una riga di una frase di un'espressione di un pronome personale come scherzo o come effettiva effettivo effettiva volontà autoriale quando per esempio carlo bordini usa il ben poco proponibile non solo in poesia pronome esso essa essi è evidente che ci si trova di fronte a qualcosa di potenzialmente giocoso o potenzialmente sotto boschivo un testo kitsch di cattivo gusto un po' pacchiano ma lui è questo tipo di di intenzione che vuole portare avanti vuole sconvolgere le carte scompaginare le carte sul tavolo della normalità della letteratura non facendolo come avveniva in passato attraverso una disintegrazione del significato o dell'ordine sintattico anche se qualche volta anche per lui c'è questa tentazione ma lavorando sul fianco fronte denotativo del linguaggio senza apparenti secondi terzi e quarti sensi ma mantenendo una ambiguitas che gli permette di di lasciare in sospeso la nostra lettura e quindi non soltanto di chiedere a noi come in fondo è sempre per certi aspetti successo nella poesia di tutti i tempi in particolare in quella delle avanguardie del novecento non soltanto chiedendo a noi di lavorare cooperare alla decodifica la decifrazione alla interpretazione a volte sovra interpretazione del testo ma chiedendoci di accettare lo stato di cantiere di accettare lo stato di polvere per usare un suo titolo che non soltanto il testo ma normalmente l'esperienza non soltanto certo letteraria non soltanto certo artistica ha attrazione al mondo